Siamo con il sindaco della città di Valmadrera, Antonio Rusconi, siamo però sulla sponda lecchese del lago di Lecco perché da questa posizione possiamo vedere molto bene la rocca che chiamerò di Parè perché è divisa fra Malgrate e Valmadrera e sarà anche un'occasione questa per indicare approssimativamente i confini tra i due comuni. Ma perché parliamo con Antonio Rusconi, sindaco della città di Valmadrera, della rocca di Parè? Perché è al centro di un importantissimo progetto di valorizzazione turistica. Si parla di un balcone panoramico sulle sponde dell'ario che si proietterà su tutto l'ario di Manzognana a memoria. È giusto signor sindaco questa introduzione? Anzitutto ringrazio per l'attenzione. Noi stiamo investendo molto su Parè, hanno aperto recentemente anche nuovi locali che vuol dire che l'interesse turistico è molto grande. Abbiamo avuto, nonostante il Covid, molti turisti olandesi e questa è stata una novità penso per tutto il territorio. Prevediamo tre tipi di investimenti. Il primo è proprio il panorama della rocca, cioè il verde. Il comune di Valmadrera è proprietario di 43.000 metri quadri di verde, quelli che vediamo proprio da Lecco, dalla riva di Lecco. E questi 43.000 metri quadri noi vogliamo trasformarli a breve in un percorso turistico, in un percorso vita dove si possa avere anche un belvedere straordinario su tutto il lago. La seconda, che avremo prossimamente un appuntamento con la sovrintendenza, è appunto la passeggiata a lago. Noi in accordo con il comune di Malgrate e in convenzione con tutti i comuni da Lecco a Galbiate, con Civate anche, stiamo predisponendo una pista ciclabile che permetta da Galbiate di arrivare a Lecco. Naturalmente per noi il pezzo più pregiato è la passeggiata tra Valmadrera e Malgrate della Rocca. Il terzo è la realizzazione di un servizio turistico presso il Pratone, dove oggi attracca il battello e dove è previsto la realizzazione di un punto di ristoro e anche di una zona turistica più accogliente. Direi che sono tre investimenti importanti che permettono di fare, un suggerimento vogliamo fare anche agli amici sindaci dei comuni vicini, un piano turistico del lago. Non è che tutti devono fare la stessa cosa, è importante che si valorizzi il nostro lago perché la gente è contenta e soddisfatto di unire montagne e lago come il Manzoni ben ricordava. Ecco, Sindaco Rusconi, da questa posizione noi possiamo delineare sulla Rocca i confini fra Valmadrera e Malgrate, che sono alcune volte oggetto di discussioni e di interpretazioni di veste anche da parte di turisti o di lecchesi o di altri comuni vicini che guardano a questa Rocca che addirittura sarebbe stata citata nella storia romana perché Giulio Cesare traghettò dalla Rocca per raggiungere il Castrum Leuci, il primo insediamento romano sul colle di Santo Stefano lungo l'antico tracciato dell'attuale superstite tratto di via Stelvio. Possiamo delinearle qui. Queste ville che si vedono in posizione così panoramica, per fare un esempio concreto, sono Valmadrera o Malgrate? Sono di Valmadrera e indubbiamente la Rocca è quasi interamente di Valmadrera, il cartello stradale è proprio quasi all'imbocco dell'allargamento della strada che poi prelude a quelli che sono i ristoranti e poi il comune di Malgrate che è molto vicino al lago. Quindi devo dire che su questo c'era un'antica polemica nella mia prima esperienza di sindaco perché c'era un amico carissimo che purtroppo non c'è più che era il sindaco di Malgrate Gianni Rota che ci teneva a dire andiamo a un noto centro di conferenze che è la Rocca di Malgrate e poi arrivavamo insieme in questo luogo di conferenze dove ci sono stati ospiti illustri da Gorbaccio fa il Cardinal Martini eccetera e c'era scritto la Rocca città di Valmadrera e quindi così c'è un po' di orgoglio anche nel riappropriarci della Rocca a distanza di qualche anno anche ricordando un amico secondo me che è stato un grande sindaco come lo è stato Gianni Rota. Un'altra notizia da commentare riguardo alla Rocca è la recente iniziativa delle notti sulla Rocca che sono state programmate in parte ridimensionate per il coravirus, è un'iniziativa da ripetere, da rinnovare, da potenziare. Ma io recentemente ho affidato la delega al turismo alla vice sindaco Raffaella Brioni perché ritengo che oggi noi dobbiamo dare valore al turismo, dobbiamo essere anche orgogliosi di quello che è il nostro territorio. Noi abbiamo un gemellaggio con la città bavarese di Vaisenorm e loro sono entusiasti proprio di questo passaggio che va dai monti al lago. È l'addio monti, no? Davvero noi dobbiamo capire che ad esempio questi percorsi che a breve faremo permetteranno una passeggiata di 20 minuti a chi non per forza deve prendere il sole in quella giornata sul lago e vuole fare una camminata godendosi un panorama straordinario. Quindi noi vogliamo davvero dare un valore a questi territori anche per far capire che si può investire sul turismo. Dicevo recentemente sono stati aperti nuovi locali e penso che questa è una linea che dobbiamo essere capaci di coordinarci come sindaci del lago per fare un piano turistico del lago. Penso che questo manca oggi sul territorio, cioè essere d'accordo nel fare un piano turistico del lago. L'ultima domanda, abbandoniamo la città di Val Madrera, andiamo a Roma, si parla di elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Una curiosità che affiora in questo momento. Quante volte Antonio Rusconi come parlamentare alla Camera o al Senato in Assemblee riunite ha votato per il Presidente della Repubblica? Di per sé, pur essendo stato 12 anni, solo una volta ho votato per il Presidente Napolitano. Ma anche lì le prime votazioni erano andate deserte perché c'erano candidati di parte. Io avevo suggerito a una cena di Natale in anticipo che il candidato al Quirinale sarebbe stato Sergio Mattarella e tutti mi avevano guardato male. Devo dire che poi Sergio Mattarella si è manifestato uno straordinario Presidente che ha rappresentato degnamente l'Italia, che ha fatto da collante in momenti difficili il governo con Francia e Germania e soprattutto si è dimostrato un uomo mite. Cioè in un Paese dove ci sono molte tensioni ha saputo offrire il dono della moderazione e del buonsenso che spesso ci manca. Il mio auspicio proprio per mantenere il Presidente Draghi alla Presidenza del Consiglio è che tutti i partiti, oggi so che ci sono delle contrarietà soprattutto da parte del gruppo Lameloni, tutti i partiti chiedano al Presidente Mattarella di rimanere un anno ancora perché sarebbe la soluzione che fa bene al Paese, perché permetterebbe al Presidente Draghi in un momento dove ci sono molti fondi a distribuire anche sul territorio, alle province e ai comuni di rimanere a fare il Presidente del Consiglio perché è la persona giusta che ha la dovuta autorevolezza non solo in Italia ma anche in Europa e a questo punto di completare la legislatura fino al 2023. Penso che questo sia il quadro che si augurano molti italiani per il bene al Paese e non per gli interessi di un partito o dell'altro. Grazie Sindaco Rusconi di queste dichiarazioni.